ciao ragazzi non sono capace a fare lo spaventato comunque potete notare dall'allestimento stiamo entrando nella settimana di halloween vogliamo regalarvi una settimana particolare nella quale uscirà un video al giorno tra short video un po tra virgolette paurosi certi video saranno dei tutorial nei quali vi insegnerò a spaventare o comunque sballordire i vostri amici con dei poteri sovranaturali o chiamando in ballo gli spiriti parlerò un po della storia dello spiritismo parlerò un po dei protagonisti che hanno reso celebre e ancora oggi d'attualità lo spiritismo come sempre vi darò i libri che vi permettono di approfondire l'argomento se è un argomento che vi interessa vi farò vedere io una routine legata agli spiriti come sempre mille aneddoti nozioni giochi tutorial chi più ne ha più ne metta e questo per tutta la settimana di halloween un video al giorno quindi non perdetevi questa settimana paurosa dedicata ad halloween ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti